La pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi purtroppo continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti, malati e sofferenti, medici e operatori sanitari, anziani e minori, poveri e famiglie, ma non solo, anche per i sacerdoti, per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali. Nei giorni scorsi, attraverso una nota, la Segreteria Generale della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha inviato delle raccomandazioni utili a contenere il delicato momento. Tale comunicazione è stata pubblicata anche nel sito ufficiale della diocesi. Durante le celebrazioni liturgiche non è richiesto il Green Pass, ma si continua ad osservare quanto previsto finora, ovvero l'uso delle mascherine, meglio se FFP2, e del gel igienizzante, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace e acqua sentiere vuote. Anche durante le ore di catechismo vanno sempre seguite le regole di accorgimento, come mascherine e distanziamento. A seguito di un contatto stretto in ambiente scolastico, studenti e docenti non vengono posti immediatamente in quarantena, ma devono sottoporsi a un tampone il prima possibile e nuovamente cinque giorni dopo. Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività extrascolastiche durante tale periodo, tra il primo e il secondo tampone. Chi è sottoposto a sorveglianza con testing non potrà partecipare al catechismo pur risultando negativo al primo test fino all'esito negativo del secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo. Per gli operatori, catechisti, animatori ed educatori, è raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 come anche ai partecipanti alla catechesi.